Insieme contano poco più di 5.000 abitanti, ma Casa Canditella, Casa Lincontrata e San Martino sulla Maruccina continuano a credere nell'Unione dei Comuni delle Colline Teatine, tanto da investire sulla formazione con un corso per i fondi europei. Il progetto è rivolto a impiegati comunali e consulenti esterni ed è coordinato dall'Inx Territorio Sociale. Gennaro torna in casa. È un progetto di cui ovviamente formalmente è responsabile dell'Unione delle Colline Teatine. È un progetto finalizzato a rafforzare la capacità di questi tre territori di progettare lo sviluppo locale sul proprio territorio. Il progetto formativo ha la finalità proprio di rafforzare le competenze sia dei dipendenti pubblici di questi comuni, ma anche di diversi operatori e professionisti privati per migliorare l'efficacia di accesso ai fondi che la Commissione Europea gestisce direttamente. I tre sindaci hanno presentato il corso al termine della prima lezione tenuta nel municipio di Casa Canditella. I commenti del primo cittadino di Casa Canditella, Giuseppe D'Angelo, che è anche presidente dell'Unione. Vincenzo Mammarella, sindaco di Casa Lincontrada. Luciano Giammarino, sindaco di San Martino sulla Marruccina. I tre comuni sono i tre comuni che hanno mantenuto l'unione dei comuni delle Colline Teatine. Inizialmente eravamo sette, siamo rimasti in tre purtroppo, a breve diventeremo quattro perché entrerà da giovedì penso il comune di Roccamontepiano. Quindi stiamo pensando non solo al presente, a reperire i fondi perché è la linfa per noi e questa è la linfa, per cercare di andare avanti, non per fare cose faraoniche o altro. Tantissimi sono i problemi, le infrastrutture, soprattutto quelle stradali. Oggi nel nostro comune e direi nella nostra provincia abbiamo strade dissestate. Quindi un intervento importante da parte dello Stato centrale che trasferisca fondi alle regioni per poter sistemare queste strade oramai diventa improcastinabile, sono pericolose. Un territorio, noi dobbiamo far sì che sia un territorio, io credo molto in questo, anche se magari poi dice voi dovevi presentate, ne ho sentite, avere un ufficio, già conoscere perché molte volte ci fa paura e quello che ci è sconosciuto, la novità, invece noi dobbiamo informare non solo gli enti nel comune San Martino, ma anche le aziende, le associazioni presenti sul territorio che ci stanno altre opportunità. E infine le prime impressioni di un corsista, Emilio Vito Colonna, consigliere comunale e dottore commercialista. Perché deve essere chiaro, proprio come formamenti e come cultura del nostro paese, che ci sono delle risorse che non possono essere attinte se non dopo una formazione molto specifica e lo sviluppo di capacità che proprio questi corsi e questi eventi tendono a far acquisire. Ovviamente qui credo si raggiunga una sorta di primo imprinting, poi sta alla buona volontà degli operatori nell'ampliare queste conoscenze che però diventano imprescindibili al giorno d'oggi.